Grazie a tutti. Questi sono i giocatori che abbiamo scelto, se ci saranno delle emergenze faremo dei riferimenti diversi, però mi piace pensare che i giovani in questi ultimi mesi hanno in maniera anche veloce fatto cambiare idea a tante persone ma soprattutto hanno dimostrato di reggere anche la pressione perché siamo vicini al mondiale e quindi aumenta la pressione, aumenta la responsabilità. E quindi i ragazzi giovani che riescono ad avere continuità per noi sono giocatori importanti.